Ultime ore di chiusura totale per il lungo lago Comasco. Da domani alle 7, salvo imprevisti, vera riaperta e veicoli, una corsia. La ritirata dell'ario, complice l'assenza di piogge negli ultimi due giorni, ha permesso al comune di Como e alla polizia locale di iniziare a programmare un graduale ritorno alla normalità. Dopo aver sfiorato i 147 cm di altezza sabato mattina, il livello dell'ario è progressivamente calato, tanto che oggi alle 13.30 il lago era a quota 130, 10 cm in più rispetto al limite. A tre giorni dall'esondazione dunque l'emergenza sembra passata anche dal punto di vista dei disagi. Questa mattina i timori per le ripercussioni della chiusura del lungo lago sul traffico del lunedì e se è vero che non sono mancati ingorghi, nelle ore di punta, soprattutto in zona Sant'Agostino, per i mezzi in arrivo dalla sponda orientale dell'ario, il traffico non è andato in tilt, come accaduto invece venerdì scorso nel primo giorno di esondazione e chiusura, con automobilisti bloccati in coda per ore. Da domani mattina dunque un ulteriore passo avanti con la parziale riapertura del lungo lago che permetterà di alleggerire il traffico a Sant'Agostino ed intorni. Si partirà con una corsia, quella più lontana dalla riva e a ridosso di piazza Cavour e anche se si tratta della corsia riservata agli autobus, da domani in via eccezionale sarà aperta a tutti i veicoli diretti da est a ovest, da piazza Matteotti a Cernobbio. Resterà percorribile, nonostante il parziale via libera sul lungo lago, il percorso alternativo usato in questi giorni lungo il tragitto piazza Roma via Cairoli. Alternativa che resterà a disposizione degli utenti fino a nuovo ordine, quando davvero la situazione sarà tornata alla normalità o quasi.